I pazienti diabetici della regione Abruzzo sono stati dimenticati, lo abbiamo dimostrato da luglio del 2020 che dicono che i presidi, quindi le siringhe, tutto quello di cui loro hanno bisogno verranno recapitati nelle farmacie comunali o addirittura nelle loro case. A maggio del 2021 abbiamo presentato un'interpellanza, l'assessore Venicio ha risposto ci ha detto a breve abbiamo la soluzione in mano, in realtà la situazione non è assolutamente così sono costretti ogni due mesi a scendere anche dai comuni montani per recarsi a Pescara a ritirare questi presidi e questo avviene anche nelle altre province abruzzesi naturalmente. E poi c'è la situazione che nasce dal distretto di Via Rieti dove è stata dal 16 di settembre trasferita il reparto di endocrinologia e diabetologia. La situazione di Marco qui alle nostre spalle è la situazione più evidente, 100 persone al giorno vengono qui in Via Rieti ma queste persone non tutte possono accedere al quarto e al quinto piano perché la carrozella che ha Marco non riesce ad entrare nell'ascensore e voi sapete insomma che questi sono problemi che riguardano i diabetici ma in generale l'accesso, perché spostare qui 100 persone se questa struttura non è in grado di accogliere e di permettere loro l'accessibilità. Quindi chiediamo che tutta questa situazione sia rivista, che sia ritrovata una soluzione il prima possibile e che questo reparto che comporta l'accesso di 100 persone sia ritrasferito all'interno dell'ospedale perché svolgevano un grande ruolo per quanto riguarda le consulenze di chiunque accedeva al pronto soccorso invece oggi un diabetico grave che accede al pronto soccorso deve spostarsi qui a piedi nei giorni successivi se non addirittura procedere al ricovero, il che significa aggravare sulle spese sanitarie della nostra regione. Una scelta incomprensibile e che comunque va assolutamente rivista. Noi interveremo facendo battaglia su altri due aspetti oltre a quelli che già il collega Blasioli ha denunciato le risorse del PNRR che sono per la sanità del territorio e questo è un servizio vero, preciso, precipuo ed esemplare della sanità territoriale. In secondo luogo interveremo perché abbiamo approvato nella scorsa legislatura il percorso diagnostico terapeutico per quanto riguarda il diabete e con le associazioni facendo una concertazione molto ampia e larga. Ecco di quel programma, di quelle norme, di quei regolamenti oltre alle attività deliberative delle ASI non si è visto più nulla. Parliamo sostanzialmente di un pezzo della sanità interrotta anche in ragione del Covid lasciando a piedi, come si suol dire, migliaia e migliaia di cittadini.